Al Ceschi di Gabbiolo la promozione Trentina 2014-2015 riparte con l'anticipo tra la Vipo di Mr. Girardi e la capolista Rottagliana di Mr. Parlato. Tra le fila dei Rottagliani fa ripuntati sugli acquisti invernali Gennare Marchione, in campo dal primo minuto. Nell'undici di casa, dall'inizio, il neo arrivato Andreatta. Dirige il fischietto interregionale Biffi di Treviglio. Dopo una decina di minuti di poco o nulla, la Rottagliana rompere gli indugi e il primo vero a fondo ci rende pericolosa. Paoli è bravo ad aprire il gioco per Capitano Sebastiani, che tenta la conclusione potente dalla distanza. Si salva in angolo Fontana. Sugli sviluppi del corner, i bianco-blu di Parlato passano in vantaggio. Nel mucchio in area, Sebastiani si libera dalla marcatura del diretto avversario e sul secondo palo gira il pallone alle spalle del numero uno di casa. I ragazzi di Girardi provano a farci vedere dalle parti di Folgeraiter al sedicesimo. Navarro calce in area una punizione dalla sinistra. Più in alto di tutti, Vaffaez che libera. E' lo stesso numero 10 a Zulgrana raccogliere la sfere dalla linea di fondo a centrare basso per Villani, che però non riesce a trovare lo spazio per girarsi. Quando la Rottagliana torna a farci vedere in avanti è nuovamente pericolosa. Corre il ventitreesimo. Paoli serve Callovini, che calcia ragiotera sul secondo palo, ma Marchione arriva con un attimo di ritardo e l'azione sfuma. Nell'ultimo quarto d'ora della prima frazione sono ancora i Rottagliani ad andare vicini al raddoppio. Callovini riesce a servire Paoli, che in area appoggia per la corrente Bertha, anticipato in estremis da Golob. I padroni di casa ci provano sul calcio piazzato a 41esimo, ma il tiro di Villani, debole e impreciso, viene respinto dalla barriera ospite. Dopo un minuto di recupero, Biffi manda tutti negli spogliatoi. La ripresa inizia con la Vipo più propositiva e al 52esimo, su angolo di Navarro, Andrea Ratta devia di testa sul secondo palo, dove Giovannini viene pescato in fuorigioco dall'assistenza del direttore di gara. Sei minuti più tardi, gli azzugrani di Girardi colgono il pari. Con la retroguardia ospite impreparata, Villani riesce a servire centralmente Burlone, che tutto solo davanti a Folgeraiter non sbaglia. Al 64esimo, lo specialista Tamanini su punizione a dare la carica ai suoi, ma il suo insidioso tiro viene deviato in angolo dall'attento Fontana. In questa fase del match, la Vipo ad avere l'occasione più ghiotta per portarsi in vantaggio. Angolo di Navarro, il tocco di testa di un difensore rottagliano diventa un assist per Giovannini, che in rovesciata colpisce il palo a Folgeraiter battuto. E poi lo stesso numero uno a gettarsi sulla ribattuta a deviare in angolo il pallone. Ad un quarto d'ora dalla fine, Villani per infortunio è costretto ad abbandonare il campo. Al suo posto entra Lazzeri. Al 79esimo, la Rottagliana va vicina alla seconda marcatura ancora sul calcio da fermo, ma sul gran tiro di Tamanini Fontana è superlativo. A pochi minuti dalla fine, staffetta in casa della capolista, esce Paoli ed entra Mariotti, ma non succede più nulla e dopo i quattro minuti di recupero, il signor Biffi di Treviglio chiude il match. Uno a uno, come un girone fa, tra Vipo Trento e Rottagliana. I ragazzi di Girardi hanno dimostrato ancora una volta di non soffrire le grandi del campionato e conquistano il loro decimo pari stagionale. Una Rottagliana poco brillante può comunque festeggiare la serata di San Valentino, ancora da prima della classe, in attesa dell'esito della gara di Chizzola, dove la diretta inseguitrice a Naune andrà a far visita al Castel San Giorgio.